Ciao a tutti sono DTTuccio e faccio parte da DT Sports Academy ormai da diversi mesi. Ci sono entrato con l'obiettivo di migliorare le qualifiche in passo gara ma soprattutto di ridurre quello che era il gap tra i tempi in prova a tempo e i tempi poi in qualifico ufficiale. È stato un lavoro veramente duro, durato diversi mesi ma grazie all'aiuto di Alberto, delle sue coaching e dei suoi collaboratori ma soprattutto grazie all'aiuto delle video lezioni presenti sul sito, video lezioni che vi aiutano a capire come approcciare ogni singolo tracciato, ogni singola cuba del tracciato oltre che a capire cosa e come approcciare ogni singola situazione presente che si presenterà appunto in gara sono riuscito a fare un grandissimo passo in avanti, un concetto fondamentale che ho imparato qua dentro è che non bisogna mai mollare bisogna sempre credere in se stessi perché se credete in voi stessi potete raggiungere risultati che non pensavate all'inizio di poter raggiungere l'importante è credere appunto in se stessi e in chi vi aiuta quindi in questo caso in DT Sports Academy questo corso non è fatto solamente per i piloti che sono alle prime armi che vogliono imparare è fatto anche per coloro che sono già a un buon livello di velocità, che vanno abbastanza forte e che vogliono fare finalmente quel passo in avanti, quel salto di qualità che gli serve per arrivare a livelli superiori quindi fate come me, entrate in DT Sports Academy e nel dubbio tenete giù di qualità che gli serve per arrivare a livelli superiori